Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale, torna a quattro chiacchiere con, che questa volta sono addirittura otto chiacchiere perché i miei ospiti sono due, in rigoroso ordine alfabetico, Cristian Gabarrini. Buongiorno Cristian. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Capo tecnico di Francesco Pecco Bagnaia e Daniele Romagnoli. Ciao Daniele. Ciao a tutti. Capo tecnico di Orge Martina. Allora, cominciamo da Cristian perché è freschissima la notizia del rinnovo del contratto di Bagnaia per altri due anni, quindi Cristian hai il lavoro assicurato per altri due anni, almeno. Pecco sicuramente, io adesso vedremo, dovrò meritarvelo sul campo come tutti gli anni, no? Sono ottimista. Comunque di continuare, che Pecco continui con Ducati, alla fine per ora il pacchetto ha funzionato bene negli ultimi anni, quindi era la cosa migliore da fare, insomma. Sono molto contento. Sì, assolutamente, era scontato, se ne parlavo ormai da tanto tempo, però insomma poi quando si vede la firma è comunque sempre un'altra cosa. Invece a te Daniele ti tocca aspettare un po', e forse anche un bel po', o no? Ah, purtroppo, cioè, noi abbiamo quest'anno, sia io che Org, l'ultimo anno di contratto, vediamo cosa succederà, sono convinto che dopo poche gare già ci sarà un bel movimento, penso che quest'anno sarà uno degli anni con più movimento, insomma, nel paddock di tutti gli altri. Onestamente, preferirei che Org rimanessi in Ducati, e anche io sto molto molto bene in Ducati, ma sono dieci anni che sono qui, speriamo di continuare. Allora Cristian, il fatto che Pecco sia già a posto col contratto, è un vantaggio a livello psicologico per la stagione? Secondo me sì, solitamente sì, perché la maggior parte dei piloti preferisce, diciamo, stare tranquilli, andare e iniziare il campionato con già una posizione consolidata, anche se sinceramente negli ultimi anni, secondo me, la cosa sta avvenendo molto molto presto, forse molto troppo in anticipo, però, tornando alla tua domanda, io direi, conoscendo Pecco, che sicuramente gli farà bene, è un elemento, diciamo, di disturbo in me, se possiamo definirlo così. Ecco, e invece al contrario, Daniele, è un elemento di disturbo, potrebbe essere un elemento di disturbo per Org e Martina, non avere un contratto per il 2025? Ma sai, è un discorso che, sì, potrebbe esserlo, come ha detto benissimo Cristian, però, per altri modi, in altre viste, può essere anche uno stimolo per fare un extra, per fare un qualcosa di più, visto che ti vuoi cercare una posizione migliore di quella che hai, cercare di fare meglio, ti può dare uno stimolo, però io, tra le due, se potessi scegliere, preferirei avere il contratto firmato, perché cambia molto l'approccio che si lavora in maniera più tranquilla, però, sai, dipende un po', soprattutto le ore del pilota, per me, personalmente, ma non cambia tanto, però, insomma. Ma, conoscendo il tuo pilota, come lo vedi? Che è un bene o un male non avere ancora il contratto firmato? Come è normale che sia, eh? Come sappiamo tutti, sai, ormai lui è un pezzo che sta cercando di entrare nel team ufficiale, ovvio, e io penso che, per come la vedo io, non vedo un Martina ancora rimanere in un team Pramac, ad esempio, un team satellite, così, lui vuol cercare, se riesce ad entrare in Ducati, oppure potrebbe anche cambiare aria, e a volte un po' si mette un po' di pressione, cioè, ad esempio, lui dice, ma, secondo me, hanno visto quello che so fare e che ho fatto, possono decidere comunque, indipendentemente da quello che dai risultati che verranno fuori anche durante questa stagione. Daniele, rimaniamo, anzi, torniamo un attimo al 2023, perché Bagnaia ha vinto il Mondiale, secondo te? Perché ha sbagliato di meno. No, è stato più regolare. È stato più regolare dall'inizio. Noi all'inizio, un pochettino, non eravamo veramente ben centrati. Ci è voluto un po'. Soprattutto la gara che ci ha dato molto fastidio all'inizio è stato Portimao, che, vabbè, la spinta è andata abbastanza bene. Però, insomma, poi dopo il casino lì, il primo giro, insomma, il filotto che aveva fatto Marquez quella volta, poi ci ha disturbato un po' abbastanza, anche per dopo lui, volendo recuperare, è caduto in quella gara. Bastava prendere dei punti e facevano comodo. E quindi, se si è vinto Bagnaia, perché loro sono stati, diciamo, più regolari, più bravi, tanto inutile vince chi è più bravo, appunto, c'è poco da nascondersi. Ecco, Cristian, invece, secondo te perché Martina ha perso il Mondiale? Ma io sono d'accordo con Daniele, anche se non mi sento, non ci sentiamo apposta. Abbiamo sbagliato anche noi tantissimo, troppo, assolutamente. E nonostante sia andata bene, bisogna riconoscere che non si può affrontare una stagione pensando di vincere un Mondiale, facendo errori come... Adesso io non è che sto puntando il dito sul pilota, l'ho detto noi apposta come team, però, diciamo, Argentina e Austin sono errori grossi e che hanno pesato tantissimo. Poi, purtroppo, c'è stato l'incidente di Barcellona che, dal punto di vista fisico, è stato un miracolo, è andato benissimo, però dal punto di vista della performance ha dato una bella botta a Pecco che ha perso l'esplosività dei primi giri che invece di solito lo caratterizza, ecco. Ma detto ciò, torno al discorso principale, senza gli errori di Argentina e Austin, anche quella fase critica lì si sarebbe potuta affrontare con molta più tranquillità perché la differenza di punteggio sarebbe stata nettamente superiore. Concordo di nuovo con Dani perché, alla fine, né l'uno né l'altro, dal punto di vista della regolarità, li promuoverei. A prescindere dal fatto che Pecco abbia vinto il Mondiale, li metta sullo stesso livello. Hanno fatto entrambi troppi errori e se pensano quest'anno di cercare di vincere il Mondiale devono assolutamente migliorare entrambi questo aspetto allo stesso modo. Allora, una sintesi che faccio io e che volevo condividere con voi. Io dico sempre, o dico spesso, che Bagnaia è più completo, Martina è più veloce. Volevo sapere se siete d'accordo con questa mia sintesi. Cristian, questa volta per primo. Allora, sul più completo ti direi di sì, ma io credo che sia fondamentalmente anche proprio un fatto di esperienza e di anni passati nella categoria. Non è che Martina abbia niente di meno di Pecco, anzi Orge ha dimostrato insomma quello che vale. Sul più veloce, forse la prima parte di stagione non saprei. La seconda, dopo l'incidente di Barcellona, soprattutto le prime gare a ridosso dell'incidente, sì. Perché, come ho detto prima, Pecco poi aveva perso, si vedeva benissimo, quella esplosività iniziale dal fare delle pole e dare mezzo secondo al primo giro anche nella sprint a tutti, è passato, pare, un paio di volte o tre per uno, che non è proprio da Pecco. Quindi sì, sicuramente la seconda parte di stagione Orge è stato più veloce, soprattutto nell'esplosività. Daniele? Esattamente, è quello che ha detto Cristian. Però sono, secondo me, due piloti veramente diametralmente opposti tra i due. Uno lo vedi, Pecco, lo vedi da fuori, molto più riflessivo, ad esempio, un pochino più metodico, lavora un po' di più. Orge, lui è quasi sempre esplosivo. Orge, ad esempio, ha una caratteristica sua, fai fatica a tenerelo nella stessa posizione, tre secondi nella stessa posizione. Cioè, lui non sempre crede di parattivo, fa sempre tante cose, però è un po' il suo carattere, ma quindi anche andare in moto, andare in pista, il lavoro che fa, è un pochino più istintivo, e anche poi di talento puro che ha, ad esempio. Però di questo progetto sono veramente diversi questi due piloti. Allora, invece, andiamo a parlare del 2024, partendo dalla moto. La GP24 è veramente un passo in avanti rispetto alla GP23? Cristian? Allora, io posso dire, mi sento abbastanza tranquillo nel dire, che la GP24 va bene almeno come la GP23, che sembrerebbe poco a dire così, ma in realtà, e Dani sa benissimo, negli ultimi anni abbiamo patito un po' l'inizio di stagione, proprio perché la moto nuova aveva bisogno di essere sistemata a dovere. Questa è partita piuttosto bene, ci siamo trovati bene subito, e quindi quantomeno va come l'altra. Naturalmente avremmo sbagliato lavoro durante l'inverno se il potenziale fosse lo stesso, quindi supponiamo che il potenziale sia superiore e che si possa tirar fuori qualcosa di più a livello di performance rispetto alla moto dell'anno scorso. Però il fatto che siamo partiti già da dove abbiamo lasciato alla fine dello scorso anno è tanta roba, insomma, siamo molto contenti. Daniele? Per noi è stato più difficile capire la moto nuova, la V24 come la chiamiamo noi, è stato proprio difficile, nel senso che, ad esempio, cominciando a Valencia, si è steso subito provando la moto nuova, quindi non ci abbiamo capito più di tanto. Sepang è andata piuttosto bene il primo giorno, ovvero ha confermato poi le sensazioni della moto 24 che ha avuto pecco a Valencia, quindi anche di motore che gli piaceva, una buona erogazione, buona infrenata, ad esempio, e questo è molto importante. Però, ad esempio, con la carena abbiamo un po' tribolato, insomma, capire se era meglio o no la carena nuova, abbiamo fatto un sacco di prove. Poi alla fine, fortunatamente, il terzo giorno, seppang, era chiaro che la carena nuova era un vantaggio. Dopo in Qatar, ad esempio, abbiamo iniziato a fare un po' di prove. Nonostante tutto ne siamo venuti fuori che praticamente la V24 sia di motore che di carenatura era migliore, però poi dopo sono in corso altri problemi, per noi un problema di vibrazioni, che veramente ci hanno fermato un po', cioè il nostro passo si è fermato un po', siamo ammorato con questi problemi. Io direi che globalmente sono molto fiducioso e contento perché ho visto che anche Bastianini va molto forte con questa moto, che l'anno scorso un po' onestamente ha tribolato. Adesso è piuttosto bene, pecco è andato fortissimo, quindi per me, io sono sicuro e sereno che questa moto va almeno come la V23, ma con un margine di che possiamo lavorare in più altre aree, c'è più campi di regolazione, la vedo come un vantaggio per la stagione rispetto alle V23. Orghe Martino è già pronto per il mondiale? È pronto per il mondiale, Daniele? Come lo vedi tu? Per me onestamente, non ci vedo, non ci parlo in plurale, non siamo prontissimi, non siamo prontissimi, nel senso appunto per i problemi che mi ha avuto in Qatar, perché ha avuto un buon passo, andava piuttosto bene, però a volte emergono delle vibrazioni, dei problemi che però noi abbiamo più degli altri, quindi questo un po' mi preoccupa, perché i problemi di vibrazione che abbiamo avuto noi, che poi non è così facile capire da che aree vengono, sono diversi fattori che creano questo problema e soprattutto anche lo stile di guida di un pilota rispetto a un altro, quindi non sono così serenissimo per l'inizio della stagione, mi sarebbe piaciuto essere un pochino più a posto, perlomeno avere avuto una continuità anche nel passo, perché la velocità l'ha avuta anche Martin in Qatar, però ad esempio sia nel time attack, poi l'Hongran è stato un disastro perché proprio vibrazioni atomiche c'erano, ecco, quindi sono meno sereno di Christian. Christian, quindi tu sei più sereno, Pecco è pronto secondo te per il mondiale 2024? Io ragiono in maniera diversa dalla tua domanda e dico Pecco è pronto per il Qatar 2024 e poi finita la gara del Qatar vedremo di prepararci per la seconda che se non sbaglio è Portimau, io ragiono gara per gara e quindi per il Qatar si è messo abbastanza bene e poi alla fine del Qatar vediamo com'è andata e ti dirò se avevo ragione o no, perché poi sai come sono le gare un attimo e che cambia tutto. Ah no no, certo, chiaramente facevo proprio un discorso generale. Ecco Christian, vederlo da fuori comunque Pecco sembra veramente solidissimo, sembra in grande forma, sembra consapevole della sua forza, sembra veloce, è veloce, quello non sembra ma lo è, lo dice il cronometro. Insomma, a vederlo da fuori siamo veramente vicini al massimo assoluto che non esiste, però questa è la sensazione che lui dà. Sì, Pecco è tornato ad essere quello diciamo pre-Barcellona dello scorso anno e questa era la cosa più importante e spero di no, che non siamo vicini al massimo assoluto perché gli altri stanno rincorrendo e non parlo solo dei piloti Ducati e quindi dobbiamo sempre cercare di trovare spunti per migliorare, in primis il pilota. Io credo, conoscendo Pecco, che ci sorprenderà anche quest'anno, qualcosa si inventerà per mettere qualche altra tessera nel famoso mosaico che io uso come metafora. Però quest'anno è ancora più agguerrita dello scorso anno e quindi sarà veramente dura. Ecco, poi torniamo a parlare degli altri piloti Ducati, ma visto che hai introdotto anche le altre case, facciamo un quadro generale di come tu Cristian hai visto le altre case e poi faccio la stessa domanda a Daniele. Allora, mi trovi un po' impreparato perché non ho seguito molto attentamente l'andamento delle altre case. Leggo poco sui social i commenti dei piloti, anche perché i piloti se non vanno bene tendono automaticamente a lamentarsi, se non sarebbero piloti. Giusto. Però, diciamo, conoscendo l'entourage Honda, io credo che loro abbiano schierato un esercito numerosissimo di ingegneri e tecnici per ritornare sulla cresta dell'onda il prima possibile, perché non esiste nella storia del motociclismo. Io credo un altro periodo storico in cui Honda sia stata così indietro e abbia sofferto così tanto. Dani probabilmente lo sa meglio di me perché in questo mondo è da più di me. Per quanto riguarda Yamaha, penso la stessa cosa, anche se magari la potenza di fuoco è leggermente più ridotta rispetto a quello di Honda e anche qui Dani probabilmente saprà più di me perché lui ci ha lavorato, però poi non bisogna dimenticare KTM che è lì, Aprilia è lì e non so se ne ho dimenticata qualcun'altra, ma credo di averle nominate tutte. KTM e Aprilia hanno dimostrato già lo scorso anno di essere super competitivi, Aprilia secondo me manca un pilota continuo e continuativo nella performance, KTM uno ne ha già che Binder, che è veramente un animale da gara e non c'è bisogno di altro commento e c'è l'arrivo di Acosta, quindi loro secondo me hanno fatto un buon lavoro anche a livello di piloti, non è detto che Miller si metta a posto e sia il terzo incomodo, e sulle giapponesi secondo me è solo questione di tempo, ma già a metà stagione vedremo un bel cambiamento, questa è la mia impressione. Daniele? Sì, io credo anch'io, lo stesso KTM e Aprilia che sono veramente vicinissime, quindi poi non devi neanche sottovalutarli, perché basta poco che inquadrono un qualcosa, che potrebbe avere anche dei vantaggi in qualche area, io parlo più dei piloti, diciamo delle moto, dei team, quindi KTM e Aprilia sono veramente vicine, KTM leggermente un po' più avanti secondo me. dei giapponesi, certo che la Honda è una roba così, non si è mai vista, prestazioni veramente un po' difficili da capire, verranno fuori, non so quanto tempo ne avranno bisogno la Honda, vedo invece la Yamaha una luce un pochino più vicina, in fondo al tunnel, anche perché Yamaha naturalmente come sappiamo tutti, hanno fatto degli acquisti importanti, sono venuti a prendere un po' di gente, hanno fatto la spesa da noi, e questi sono forti, quelli che hanno preso sono veramente forti, potremmo dare un cambiamento. Io mai li ho visti, ad esempio, quando è arrivato Valentino il primo anno, eravamo disperatissimi nel 2003, disperatissimi, è arrivato Valentino, furusava, ha messo a posto un paio di cose, c'è stata una svolta proprio anche nel metodo di lavoro, ha rivoluzionato tutto, e comunque hanno metto il mondiale subito, quindi io avrei più paura di Yamaha che della Honda in questo momento. Beh, bene, questo mi piace questa valutazione, allora Yamaha, già che stiamo parlando di Yamaha, sono gasatissimi dall'arrivo di Max Bartolini, che voi naturalmente conoscete benissimo, è veramente un acquisto così importante, vai tu Daniele prima, visto che l'hai introdotto, e poi voglio sapere anche da Cristian. Ma secondo me sì, perché soprattutto darà una svolta nel metodo di lavoro, ad esempio io mi ricordo quando sono arrivato in Ducati, venendo da Yamaha è stata una cosa completamente opposta, cioè Yamaha era tutto preciso, funzionava tutto, rischi zero, noi Ducati siamo un pochettino più, siamo italiani, voglio dire siamo più focosi, anche le cose le introduciamo un po' più alla svelta, non stiamo lì a ragionarci tre mesi, ci ragioniamo magari tre ore, una notte, il giorno dopo già diciamo lo mettiamo in pista. Quindi portando un metodo di lavoro, a dare una bella accelerata al metodo di lavoro e allo sviluppo, cosa che vedo che gli giapponini sono rimasti un po' indietro, potrebbe dare una bella svolta a Yamaha, e sono convinto che Bartolini darà una grande mano a loro. Ecco Christian, mancherà Bartolini dentro al box Ducati? Ma lo chiedi alla persona sbagliata, perché per me Max, oltre ad essere stato il mio capo, era il mio compagno di stanza nelle trasferte, e lo considero uno dei miei migliori amici, quasi un fratello, quindi sarei di parte comunque, dai per quanto provi io a rimanere neutrale, però concordo con Daniele, Max è un bulldozer, muove una quantità di lavoro, produce una quantità di lavoro in mane, è una persona completamente dedita al lavoro, è veramente tecnicamente molto preparato. Quindi hanno preso la persona più giusta che potevano prendere da noi per fare quello che stava dicendo Dani prima, purtroppo. e quindi sono d'accordo con lui che insomma se una svolta non gliela da lui, la vedo male la situazione. Non ce la fanno proprio. Ma Christian, una curiosità, tu l'hai saputo molto prima di noi e che lui se ne sarebbe andato, visto che hai detto che siete così amici, una curiosità, oppure anche tu l'hai saputo quando è successo? No, non ti sento, credo sia data via la linea. Ah ecco, va bene. Va bene, va bene. Allora, tornando invece in casa Ducati, allora è arrivato Mark, sapete benissimo che quello è l'argomento che ha fatto discute gli appassionati, che fa discute i piloti, eccetera, eccetera. Voi come lo vedete? Christian, come lo vede? Forse adesso si sente meglio? Allora, io dal punto di vista delle sue condizioni fisiche non ne ho la più pallida idea, anche perché non mi sono mai permesso in una situazione del genere così delicata di andare a chiedere, nonostante abbiamo passato poco più di un anno insieme e lo conosca abbastanza bene. Mi auguro per lui, umanamente, che stia bene e sia tornato al massimo della sua forma. E dal punto di vista della performance, Mark Markets è Mark Markets. Quindi io penso che se lui fisicamente è a posto, sarà lì già dalla prima gara e sarà lì sempre con i primi. Guardando un po' di dati, diciamo, mi sono tolto qualsiasi dubbio che abbia disimparato ad andare in moto, perché non è così. È sempre lui, ha sempre le stesse caratteristiche, che è uno che riesce a interpretare la situazione con una velocità incredibile, ad adattarsi a delle situazioni con una velocità incredibile e a una visione della gara assolutamente lucida. Per cui, se è rimasto quello che era, sicuramente sarà lì nel gruppo dei primi da subito e sempre. Daniele? Assolutamente. Per me quest'anno dobbiamo mettere in mezzo anche a tutta la mischia, anche Mark, perché abbiamo già visto già come è stato veloce con questa moto. Ok, diciamo che ancora forse non ha uno stile di guida al 100% Ducati, però molte volte anche io guardando i dati di come guida, insomma, lo vedi già che sembra quasi della volta vedere lo stesso pilota, senza andare proprio ad analizzare nei dettagli certe manovre, però vedi che praticamente sembra quasi lo stesso pilota. È velocissimo. Poi ha una moto che ha posto, ha una mole di dati incredibile, quindi lui entra in Ducati con un sacco di dati già posti, un sacco di regolazioni, setup, elettronica, tutto. Una moto che va e dirti che poi la moto che hanno la 23 è andata molto molto forte, che sia così tanto inferiore non lo sappiamo neanche noi, onestamente, lo spero che sia un po' inferiore perché darà del filo da torcere a tutti e pronti via, sarà uno veramente, sono qui dopo nelle sprint, partirà veramente veloce, forte. Quindi, risposta secca per tutte e due, è in lizza per il titolo mondiale, secondo voi? Daniele, io dico di sì. Christian? Assolutamente sì. Ecco, e chi aggiungete a questa lista? Allora, Bagnaglia, Martín, ce li metto io, immagino che ce li mettiate anche voi. Marquez, l'avete messo, Bastianini, lo aggiungiamo? Come lo vedete voi? Daniele, Primac. Io ho visto che ha fatto un bel inverno, si è trovato subito bene già da Valencia con questa moto, secondo me ha trovato quello che gli mancava l'anno prima, quindi Bastianini lo metto in mezzo anche perché se ci ricordiamo come è andato due anni fa è partito veramente fortissimo, quindi io metto anche Bastianini. Christian? Sì, assolutamente e io, come dicevo prima, non mi dimenticherei di Binder perché a loro basta veramente un altro piccolo passo affinché lui sia sempre lì e poi gli altri bisogna vedere un po' qual è stato il progresso a livello di performance della moto e di adattamento del pilota alla moto che guidano, però questi quattro che abbiamo nominato sicuramente sì. Invece volevo chiedere il vostro aiuto se mi aiutate a capire i progressi che ha fatto Di Gian Antonio, so che non è un vostro pilota, l'avete visto però dall'esterno però un po' più dall'interno rispetto a quanto possiamo vedere noi perché Di Gian Antonio obiettivamente a 4-5 gare dalla fine del 2023 ha cambiato passo, è diventato velocissimo, ha vinto in Qatar, adesso anche durante l'inverno sembra essere andato forte, è soltanto una questione tecnica, una questione psicologica, come la giudicate voi Cristian, tu come la giudichi? Da fuori naturalmente per quello che puoi vedere. Allora, guarda, io inizio, cercherò di essere breve con un aneddoto, la settimana scorsa il responsabile dei talenti azzurri della Federazione Motociclistica Italiana parlando di questa cosa mi ha detto io ero meravigliato che il Di già andasse così piano perché di tutti i ragazzini che si è affassati da noi lui è stato uno dei più forti di qui. Io, non conoscendoli da piccolini l'ho presa come informazione vera anche perché loro non avrebbero interesse a dire una cosa per l'altra. Poi devo dire che a me mi ha lasciato veramente a bocca aperta e in particolar modo a Philippe Highland perché la prima volta che si è trovato lì davanti a giocarsi una gara non ha sbagliato niente, non ha fatto una sbavatura e si è comportato come un campione del mondo e da lì in poi è stato un rullo compressore, è andato veramente forte, sappiamo benissimo che non aveva una moto pari performance della 2023 nostra perché questa è la verità e bisogna dirlo che si vedeva chiaramente per esempio sul rettilineo del Qatar dove nonostante tutto noi le abbiamo prese di santa ragione perché questa è la verità noi parlo pecco perché Martino è riuscito a finirgli davanti durante la sprint e quindi Digi ha fatto un salto in avanti incredibile e non è stata una sola gara e non è stata una pista con particolari caratteristiche cosa sia successo mi piacerebbe saperlo perché sono anche un grande appassionato di psicologia umana quindi se riuscissi a capire quella cosa lì probabilmente sarei in grado di fare il mio lavoro molto meglio e gli auguro che continui così perché è stato veramente bravo è stato veramente una delle cose diciamo delle sorprese più belle dello scorso anno Daniele ti era mai capitato un cambiamento così grande? Onestamente quasi sì e poi te lo dico qua il proprio secondo me io lo ritengo un po' a livello mentale ti faccio l'esempio il suo ex pilota di Cristian Olga Lorenzo praticamente quando ha deciso licenziato ha iniziato a vincere l'Arafica e di Gian Antonio lo stesso magari era in una fase che stava cercando un posto ancora nessuno che l'ha rilanciato chiesto e cercato confermato proprio sembra quasi in concomitanza con questa cosa qui ha iniziato ad andare veramente forte ma anch'io non mi chiedevo perché prima non andasse forte perché comunque era stato nelle categorie precedenti è andato molto bene adesso anch'io non lo conosco nei dettagli per carità però mi aspettavo che andasse un po' meglio agli inizi ma da quando è iniziato a fine stagione c'è stato davanti è stata dura stare dietro c'è da capire ma come fa ad andare così forte veramente con una moto inferiore quindi anche in Qatar proprio veramente ci ha stupito tutti Valencia però dopo sai anche lì della volta anche i piloti gli scatta qualcosa in testa e dice per un qualche motivo cerco con la motivazione che te metti da parte non so delle paure delle insicurezze ti butti cominci a prendere la fiducia e poi vedi che la moto ci sta puoi fare la curva aprire il gas e loro hanno fatto lo step ma penso mentale secondo me sì sì credo che sia soprattutto mentale allora siamo in chiusura Daniele vabbè cosa ti aspetti da questa stagione e non so qual è il consiglio che darai a Olga Martina il venerdì FP1 che consiglio gli darai ma soprattutto di rimanere un po' più calmo ok perché per vincere il mondiale di essere molto più regolari cercare di avere dei buoni risultati puntare adesso dico non proprio sempre i primi 5 che forse non potrebbe bastare però sono una grande regolarità quindi a prendere un pochettino più calma se una volta non si può vincere o vincere con vantaggio arrivi il secondo o terzo quello che può essere quindi raccogliere dei gran punti e non fare errori e invece tu Christian cosa dirai a Pecco di continuare a lavorare come abbiamo fatto negli ultimi anni evitando errori grossolani direi che è più che sufficiente ma non c'è il rischio immagino di no so già la risposta però te lo chiedo non c'è il rischio per Pecco che si rilassi un pochino so già la risposta ma è giusto chiederlo a te come detto una volta Valentino quest'anno quando è venuto nel box non mi ricordo in che gara in cui è passato da F1 e poi ha vinto la gara ho detto a lui bisogna fargli era sempre difficile perché altrimenti si rilassa e poi lui ha usato un termine un po' forte fa delle in Italia e si riferiva alla gara di Austin e effettivamente per l'ennesima volta aveva ragione lui quindi io spero spero che non si rilassi più non c'è il pericolo che si rilassi Olga Martina Daniele ma qui rilassato non c'è né nei piloti né anche noi stessi non ti puoi rilassare non ce la fai sempre attivi va bene ragazzi io vi ringrazio moltissimo di questa così chiacchierata a tre mi è piaciuta moltissimo mi sono divertito moltissimo ho imparato un sacco di cose come sempre io vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità io faccio in bocca al lupo tutte e due e come si dice vinca il migliore questa è una banalità ma insomma è così grazie Cristian grazie Daniele grazie a te grazie mille ciao a tutti viva il lupo grazie a te grazie a te